Kate Middleton non ha mai avuto folle che le urlassero contro come hanno fatto a Meghan Markle, portando l'editorialista Amanda Plattel a chiedersi se la duchessa stesse pensando, e io, in questi giorni, la duchessa di Cambridge, 39 anni, e la duchessa del Sussex, 40, hanno vite in gran parte separate. Kate e il principe William vivono a Kensington Palace con i loro tre figli, il principe George, La principessa Charlotte e il principe Louis Nel frattempo, Meghan e il principe Harry si sono stabiliti a Montecito, in California, con i loro due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana, dopo essersi dimessi da Reali Senior lo scorso anno.Sebbene le due coppie siano geograficamente separate oggi, in precedenza hanno partecipato a impegni pubblici insieme e a volte sono state soprannominate i Fab Four dalla stampa. Una nuova serie di documentari ha dato uno sguardo dietro le quinte alle narrazioni che si sono sviluppate intorno ai Cambridge e ai Sussex nei media. The Princess and the Press, disponibile su BBC iPlayer, ha intervistato una serie di giornalisti reali, commentatori e altri addetti ai lavori su come viene rappresentata la famiglia reale al pubblico. Il programma è presentato dal media editor della BBC e conduttore di Radio 4 Amol Ryan. Nell'episodio 1, parla con l'editorialista del Daily Mail Amanda Platel del suo commento reale su Kate e Meghan.Le chiede perché ha scritto la sua rubrica di dicembre 2017, Kate può far fronte alla mania di Meghan. Ha detto, Kate non ha mai avuto folle che le urlassero contro. Ricordo che uno dei primi eventi di Meghan è stato fatto a Brixton in una stazione radio. Era come se fosse arrivata una rock star e non saresti solo un po' umano per pensare, e io. La signora Platel ha fatto riferimento alla visita dei Sussex nel gennaio 2018 alla stazione radio FM Represent 107.3 a Brixton, nel sud di Londra.